È stato arrestato alle prime ore dell'alba a piedi mulera ed associato alla casa circondariale di Verbania il 57enne calabrese colpito da ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Reggio Calabria. Oggi, in Calabria e in altre parti di Italia, è scatta l'operazione di polizia atto quarto, indagine della direzione distrettuale antimafia che ha portato all'arresto di 27 persone, di cui 5 ai domiciliari e al... Se vuoi vedere tutto il video, abbonati alla nuova televisione online e live 24 ore su 24.